La piena di grazia. 24 marzo 1977. Figli miei. La pace sia con voi ora e sempre. Sono qui a ricordarvi un momento solenne della storia del mondo. Il momento in cui un angelo, sceso sulla terra per divino volere, entrò nella casa di una vergine e la salutò col saluto più gioioso e più grande con cui una creatura di questo mondo possa essere onorata. Ave? Piena di grazia. Che cos'è infatti la grazia se non la presenza di Dio in un'anima? Non poteva dire di meglio l'arcangelo Gabriele. Ed il suo saluto non era che l'eco delle parole del Padre che è nei cieli. Maria si intimoria a quelle parole. Ma quando l'angelo l'assicurò e le diede un segno perché riconoscesse che le sue parole venivano da Dio, subito si abbandonò alla divina volontà. Piena di grazia, fu ed è quella creatura eccelsa che mi fu madre e che è madre di tutti gli uomini. Ella può dunque proporsi a voi come modello e come mezzo per ottenervi quel candore di anima che forma l'attrattiva del Padre. Si dice giustamente che l'uomo vale per ciò che ha dentro di sé. Non sono le ricchezze. Non le doti morali. Non la scienza che rendono pregevoli i figli di Dio. Ma quella presenza divina per cui tutta la vita si trasforma e diventa preziosa davanti al cielo e davanti agli uomini. La grazia è come la statura spirituale di una persona. Più si cresce in unione con Dio, più lo si fa dimorare nell'anima e più si diventa grandi agli occhi di Dio. Maria, di questa vita divina era al completo, così da non poter più crescere. Può forse un vaso riempirsi oltre la propria misura? Ella è il vaso d'elezione. Il vaso ammirabile. Nessuno poteva aggiungere alcunché alla sua virtù e ai suoi pregi. Tutti possono attingere a questa fonte inesauribile di bellezza, di candore e di sapienza, che è l'anima privilegiata della mia Vergine Madre. La grazia è in lei completa e fu completa fin dal primo istante del suo concepimento. Non venga mai meno in voi la fiducia nella sua sapiente bontà, capace di suscitare in voi il desiderio della santità e di istruirvi su come raggiungerla. La santità è amore, e chi meglio di lei potrà insegnarvi ad amare? Ella, che mi diede il cuore umano e che mi diede i primi insegnamenti dell'amore di Dio e del prossimo, può ben esservi maestra. Il suo cuore è stato modellato direttamente da Dio e riempito di carità. Il suo amore supera quello di tutte le creature messe assieme. L'amore, che spinse i vergini ad offrire il proprio corpo immacolato al Signore, si manifesta in lei con l'eroismo che al Signore sacrifica ogni attimo della propria vita. L'amore, che spinse i martiri a sacrificarsi accettando il martirio, trova nella madre mia una fornace in cui espandersi. Ogni mamma che ama veramente le sue creature ha dei limiti, e molte volte i contrasti, le offese, le incomprensioni e le cattiverie, possono sminuire questo amore fino a trasformarlo in indifferenza o in odio. Nel cuore della piena di grazia, l'amore materno non conosce né ostacoli, né difficoltà. Tutti sono figli suoi. I buoni e i cattivi, che essa chiama, i lontani, e questo basta perché siano da lei amati, richiamati, protetti, difesi. Ogni anima è fatta a immagine e somiglianza di Dio, perciò nel cuore di Maria si uniscono questi due amori, di Dio e del prossimo, fino a confondersi. Che cosa resta da fare a voi, che vivete qua giù, e sentite tutta la fragilità della vostra natura e la debolezza della vostra volontà, che non sa decidersi a fare ciò che Dio vuole da voi? Vi resta un mezzo potente che è come l'ancora di salvezza. La stella polare che vi indica il porto. Vi resta Maria che può e vuole aiutarvi a crescere. La crescita di un bambino è affidata alla mamma. La vostra crescita spirituale voi dovete affidarla a colei che ospitò nel suo seno la sapienza incarnata di cui fu madre. Più il vostro desiderio di crescere in santità è grande e più, affidandovi alla madre mia, diventate capaci di scoprire e di compiere la volontà di Dio e di crescere nella sua grazia. Così, figli, la festa dell'annunciazione diventa anche per voi un richiamo alla perfezione e alla donazione di Dio agli uomini. Io vi do il mio corpo e il mio sangue ogni giorno nella Santa Messa. E l'Eucaristia è il pane che la piena di grazia, che vuole farvi vivere della mia e della sua vita, continuamente vi addita.